non mi piace questa cosa professore ho chiuso il wormhole che cosa succede non lo so si era chiuso ma sembra che si stia riaprendo dobbiamo andarcene dobbiamo uscire no io non lo lascio qui tesoro mi dispiace dobbiamo andare via andiamo è quello che non volevamo che accadesse che cosa sta facendo si nutre una singolarità non si ferma neanche dopo che avrà ingoiato la terra il disco di accrescimento si sta già formando cioè i detriti i materiali che orbitano intorno alla singolarità e cosa comporta bisogna fermare quel moto in pratica è un tornado solo che questo è sotto sopra è più grande e angosciante per questo fenomeno ha un'energia di 6,7 tera elettron bot non può essere fermato devo tentare la tua la tua la tua la tua